Ciao a tutti amici e amiche del segno dello Scorpione, bentrovati in mia compagnia. Siamo oggi qua pronti per conoscere le vostre previsioni dal 5 all'11 settembre 2022. Vi ricordo che queste sono energie generali che non possono valere per tutti. Se per caso c'è qualcosa che non risuona in voi, lasciate correre, è un processo del tutto normale. Se gli iscritti vai al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Benissimo, incominciamo nel capire quali sono le vostre energie settimanali. Confusione mentale, carta numero 10. Ok, vediamo i tarocchi delle Taromen. Queste sono comunque le mie carte, i miei mazzi tra tarocchi e raccoli e sibili. Se volete acquistarli vi lascio qui sotto nel box il link per accedere al mio shop online. Vediamo per lo Scorpione la seconda carta. L'asso di denari. Ok. L'asso di denari per me è una delle più belle carte che c'è. Perché l'asso di denari mi parla di concretizzazione, mi parla di realizzazione, mi parla di denaro, mi parla di porre le fondamenta in riguardo a una situazione comunque tangibile che si può toccare con mano. Un nuovo inizio. Un qualcosa di bello. Anche se magari ci sarà un po' di confusione mentale soprattutto all'inizio. Anche perché magari non sapete come comportarvi con quella persona, non sapete come comportarvi nei riguardi di quella situazione. Però fondamentalmente c'è questo asso di denari che comunque è un germoglio che sta pian pianino crescendo. E' nato e crescerà, si svilupperà. Porrete radici, porrete fondamenta anche per costruire il vostro idone d'amore. Per costruire una casa, un immobile per entrare a primo titolo nella vostra casa. Quindi anche la concessione di un mutuo potrebbe esserci oppure qualcosa che va a buon fine, appuntista di burocrazia e appuntista di immobili. Ok? Ma vediamo ora l'oraco di Bellino e cosa vuole dirvi. Si sa che magari all'inizio c'è sempre della confusione, però diciamo che è una confusione sana, è quell'ansia sana. Il rischio qui dovete assolutamente rischiare e mettervi in gioco, perché qui le cose veramente andranno a vostro favore. Quindi dovete lasciarvi andare, dovete provare, dovete comunque rischiare. Appuntista amoroso, sentimentale, per chi già è in coppia, è il momento di prendere quelle decisioni che magari da tempo rimandate, senza la paura di quello che potrebbe accadere né di eventuali conseguenze. Dovete darvi da fare, perché in amore, nel lavoro, appuntista economico, le opportunità ci sono, ma bisognerebbe comunque riuscire a coglierle al volo. Per chi è singolo e vuole approcciarsi a delle novità, qui lasciate da parte la confusione, perché è ora di muoversi, è ora di aprirsi alle novità, a qualcosa che può darvi delle certezze, a qualcosa che può darvi comunque delle stabilità. Ok? Dovete rischiare, dovete quindi prendere una decisione, perché, come si suol dire, chi non risica, non rosica. Quindi è importante osare e vedere comunque quello che accade. Ma vediamo ora il messaggio dell'oracolo di vita, dell'oracolo della sfera dei pensieri, scusate. Vediamo. Guardate lo specchio e pronuncia questa frase. Ho fatto tutto il possibile. Ok. E poi, nella sfera della vita, vediamo una carta anche per quello. Sfera delle finanze, c'è un equilibrio tra entrate ed uscite. Ora, se volete anche voi giocare due numeri all'otto, però mi raccomando, giocate sempre con moderazione, perché siete voi gli unici responsabili di come e di quanto giocate. I due numeri da giocare sono il 10, eccolo qua, e il 44. Quindi, 10 e 44, scelete voi le ruote e nel caso giocate e vincete, fatemi sapere. Ok? Benissimo, sono previsioni molto molto belle queste, quindi mi raccomando, mettetevi in gioco, rischiate, osate e partite per l'avventura, per creare una, diciamo, vita nuova. Ok? Benissimo cari amici e vi aspetto sempre qui sul Taromè. Ciao a tutti, alla prossima!